Oggi è l'ultimo giorno del progetto Comenius, domani i ragazzi partiranno, torneranno nei loro paesi, accanto a me la professoressa Asaro. Quali sono le attività che svolgeranno oggi i ragazzi insieme nelle loro classi? Allora, oggi è proprio come coronamento di questo percorso interdisciplinare, così interessante, che ci ha regalato davvero tantissime emozioni, ma anche ci ha arricchito culturalmente tantissimo, anche dal punto di vista umano, questi scambi che sono avvenuti tra ragazzi, poi in una mazzara che è proprio il carrefour degli scambi perché è il cuore del Mediterraneo, oggi coroneremo il nostro percorso con una lezione fatta proprio attraverso le lavagne interattive, che un po' sono il fiore all'occhiello del nostro istituto. Con i ragazzi ho avuto modo di approfondire la civiltà inglese, proprio del paese di cui studiano la lingua, loro peraltro sono specialisti in lingua inglese perché lo studiano per cinque ore settimanali, pertanto abbiamo prodotto dei PowerPoint che sottoporrò anche ai ragazzi ospiti, proprio per questo scambio che caratterizza la civiltà inglese e che sarà oggetto della lezione di oggi. Attraverso i PowerPoint noi, i ragazzi, si confronteranno su quello che hanno appreso durante le lezioni, sia per quanto ci riguarda che anche nelle loro scuole. Quindi per quanto riguarda anche il progetto di integrazione di queste due culture, possiamo benissimo dire che è riuscito? Io direi che non solo è riuscito, praticamente è stata veramente un'esperienza superlativa che ci ha regalato tantissimo da tutti i punti di vista. È stato uno scambio, ma non soltanto culturale, per cui loro hanno conosciuto il nostro modo di far scuola, il nostro modo di accogliere, il nostro modo di nutrirci, di stare a tavola. È stata veramente un'esperienza anche dal punto di vista scolastico, perché loro hanno praticamente fatto lezione con noi, hanno avuto un modo, per quanto mi riguarda soprattutto durante le lezioni di lingua, di interagire tra di loro, per cui diciamo che l'inglese parlato porta un po' il calco della propria lingua madre. Quindi il fatto che si sono compresi benissimo durante questa lezione, hanno avuto modo di interagire così agevolmente, così fluentemente, per me è stato un successo grandissimo.